Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa Ought Baileron qui su Farming Simulator 22 Nuovamente oggi accompagnati dal nostro buon collega Sterno84 che salutiamo e diamo il bentornato Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Simulator, grazie per l'invito Ma si figuri, ma si figuri Che non mi ricordo il nome Ought Baileron Bene Allora, allora E' già un po' che lo registriamo sulla francese raga Quindi siamo rimasti un pelino indietro con le lavorazioni Comunque ricordo che nel scorso episodio avevamo iniziato le varie vendite Tra cui il mais, avevamo venduto l'insilato Insomma abbiamo venduto un po' di robina interessante In realtà venduta no, il mais l'avevamo portato al silo ferroviario sud Adesso dovremo andare a noleggiare il treno Più questo bel acquisto che avevamo fatto in offerta Oggi ovviamente dobbiamo andare a completare le vendite E insieme al collega iniziare il nuovo ciclo di semine Magari se ci stiamo dentro con i soldi Anche un nuovo acquisto non sarebbe male Ma prima di partire come sempre vi ricordo che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili Compreso anche un link che vi permette di comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati E ovviamente anche il link del buon collega Allora, 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 allora Ho portato tutto quanto il mais off camera raga Al silo ferroviario sud Adesso ci dirigiamo appunto al silo E dobbiamo andare a noleggiare il trenino Lo dobbiamo noleggiare per 1000 euro Allora, vai Treno noleggiato Mancano 750 metri Quindi a questo punto aspettiamolo Così ci carichiamo tutto quello che abbiamo E andiamo a vendere a Marison O come caspita si chiama il punto vendita Che me lo fa vendere Sì, a Marison per 1724 euro Poi dobbiamo vendere la paglia Che possiamo vendere già in gennaio Abbiamo 127 litri Li possiamo vendere al mercato del bestiame Poi ci spostiamo invece in febbraio E dobbiamo vendere gli ortaggi Ovvero lattuga, pomodori e fragole E un bel po' di pallet di miele Come vedete tutti i prezzi sono in risalita Direi anche, sì, anche le fragole sono tutti in risalita Quindi aspettiamo che salgano Eccolo qua il trenino Allora, avvia scaric... Ma perché abbiamo della colza all'interno? Scarichiamo sta colza Che... Non so perché abbiamo la colza E ci carichiamo Dica tutto Comunque la vedo proprio bene come macchinista È vero? Fa la sua figura Sì, sì, sicuramente Anche il vestito aiuta parecchio Esatto, esatto Con quei baffi lì Eh, sì, sì Uno di quei vecchi macchinista stile 1800 proprio Inizio 1800 Stile far west Boh, io manderei la colza Quasi quasi Sì, perché la colza vale di più Vale 2000 e 02 Invece... Come si chiama? L'altro vale solamente... 1700 Va bene Raga Mando il treno, eh Abbiamo 17.000 litri di colza E 210.000 litri Sono rimasti 17.000 litri 27.000 litri all'interno Ma lo venderemo più avanti Al prossimo scarico piuttosto lo vendiamo Tanto non c'è nessun problema Ok Vado, eh Non so se sto andando dalla direzione giusta No Sto andando dalla direzione scorretta proprio Mi tocca fare... Vabbè, dai Vado lo stesso Sai cosa ti dico? Perché voglio vedere... Un pochettino in giro per la mappa Ok, raga Dovremmo essere intorno al siloferroviario nord Quindi in teoria dovremmo essere... Sì, esatto Arrivati al punto di vendita Ho fatto un giro un po' più lungo Così mi sono gustato un pochettino la mappa E in teoria adesso mandandolo... Ok, sì Abbiamo fatto... Ok 397.000 euro Marine Va bene, va bene, va bene Ottimo, ottimo ci sta Perfetto A questo punto oggi direi che altro che un acquisto Facciamo molto più che un acquisto In primis di tutti Dobbiamo però andare a febbraio Andare a febbraio e andare a vendere gli ortaggi Tipo... Come si chiamano qua? Pomodori, insalata Pomodori, lattuga e fragole E in più il miele Quindi altri soldini Chissà se oggi arriveremo a un milione Sarebbe una bella cosa Una bella iniziativa per questa mappa Dica Non c'è... Non c'è nulla in... In frigo insomma Eh, non abbiamo nulla di scorta Eh... No, no Eh, bisognerà farlo Bisognerà farlo Vabbè, poi lo faremo Eventualmente Direi che possiamo iniziare a partire Con l'idea di poter convertire Un campo ad erba Tipo Oltre in totto o il quaranta Che non sono troppo grossi Magari convertirli ad erba Raccogliamo un bel po' di paglia Prima C'è la paglia da raccogliere C'è la paglietta Senta, ecco, bravo Dato che sei sul... Sul... Sì Sul camioncino Dovresti poter venire... Sì, paglia Ce l'abbiamo qua nel fienile Bisogna raccogliere sta paglia E iniziare la vendita della paglia Raga, un secondo Perché non ricordavo più della paglia Mi stavo già scordando Ho visto... La fai col camion? Sì, 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 tranquillamente Mi sono accecato da tutti i soldi Che abbiamo preso E mi sono dimenticato Della vendita della povera paglia Ok, prima vendita fatta 3.498 litri Adesso vediamo ovviamente Quanto fare il collega amica Ha visto quanto ne rimane All'interno del fienile Guardo io 45.000 Va bene Ce ne erano 100.000 litri Va bene, va bene, va bene Io un carico riesco a farlo Più fai ancora te un qualcosina Dai Ok, dai 9.200 9.200, va bene Dai, quasi 10.000 euro Per 60.000 litri 59.000 Sì Allora, direi che questo, raga È l'ultimo carico che facciamo Perché in realtà 23.000 litri Va bene Me li tengo questi 23.000 litri Non si sa mai Volessimo buttar giù Un capannetto Di qualche animale Che ha bisogno di paglia Ce lo abbiamo Bene Vado a vendere sta roba qua Nel frattempo direi che possiamo restituirci Anzi, collega Vada un attimo a lei con l'andini Che io intanto mi restituisco Un paio di attrezzature Attrezzature del tipo Il camion, ovviamente E il cassone Ok, rinviamo tutto Tanto oramai Di questa roba qua Non ce ne frega più niente Va bene, raga Allora, il collega ha venduto Quindi nel frattempo Che lui se ne torna indietro Io direi che Tengo d'occhio i prezzi Degli ortaggi E del miele E però, ovviamente Andiamo avanti col tempo Ce ne andiamo verso Febbraio Allora Ho visto ora che Le fluttuazioni sono cambiate Nel senso che I prezzi adesso Stanno di nuovo scendendo Il massimo che ho visto Per il miele è stato 3, 3 più o meno Perché poi in febbraio Scendono di nuovo Nuovamente Quindi sono le 16.28 Del secondo giorno di gennaio Direi che Andiamo a venderci Questo Po' di roba Che abbiamo Che nonostante Nonostante sia in discesa Devo dire che però Ha dei prezzi Davvero Molto Molto Vantaggiosi Quindi Collega Armiamoci di coraggio Ok raga Abbiamo fatto il pieno Di tutti i pallet Di Fragole Pomodori E lattughe Adesso Bisogna capire Speriamo che siano Tutti nello stesso punto Perché effettivamente Io ho caricato così A braccio Ma non ho visto Vabbè Lattughe e pomodori Sicuramente sia Al negozio agricolo Va bene Forno Ci sarebbe meglio Le fragole Ma le vado A vendere Comunque Al negozio agricolo Perché da quel che ricordo Il forno È completamente Buggato Per la vendita Dei pallet Quindi non vorrei fare Strani disastri Quindi Vado lì Poi al mio ritorno Ci carichiamo il miele Collega Si prepari Lei Ok raga Eccoci Arrivati Al bel punto Vendita Vendiamo Tutto quanto Via Vediamo quanti soldini Riusciamo a fare Vai che il contatore Guarda come sale Ancora soldi Guarda come sale Ancora soldi Ok Caspita 22.000 euro Raga Da pochi litri Di lattughe E di pomodori Che fragole Che abbiamo fatto Dai Ok raga Ed eccoci Arrivati Qui Allora Carichiamoci tutti Sti bei pallettozzi Guarda che roba Carica anche sti tre Ok Quanto abbiamo fatto 8.000 litri di miele Beh Non male Però vabbè collega Sai cosa ti dico Ma vai tu Va Dicca Vai tu Va bene Vai tu Vado vado E nel frattempo Noi raga Bravo Abbiamo 800.000 euro Voglio dire Mi avrebbe fatto piacere Vedere il milioncino Però va bene Dai No No impuerta Uh C'è questa bella John Deere di raccolta a cotone Ma non me ne faccio niente Se no me la sarei comprata Ehm Cosa volevo dire Dobbiamo comprarci Un nuovo Almeno uno Ma io direi anche un paio Sinceramente Se non costano tanto Un paio di campetti Un paio di campetti Vediamo un attimino cosa prendere Beh direi che Allo stesso prezzo Praticamente Mi prendo il 39 e il 42 Al posto del 37 Che costa il doppio Cioè costa come il 39 e il 42 Quindi mi li prendo tutte e due Direi che 4 li teniamo a campi coltivabili E uno Lo trasmutiamo a campo ad erba Ovvero il campo Quello più esterno Il 40 diciamo Quello che non rientra Nel quadrato perfetto Boh Direi che i primi acquistini Li abbiamo fatti Siamo già sotto i 500 mila euro Ehm Però non importa Adesso Tempo che il collega vende E poi dobbiamo Per ovvie cose Spostarci in primavera Se no Ovviamente non possiamo iniziare Le varie semine Semine che Quest'anno Vorrei Intraprendere La strada Dei tuberi Ovvero patate E barbabietole Da zucchero Penso sia arrivato Dopo Quasi 20 puntate Credo sia arrivato Il momento di arrivare A fare i nostri Beh i tuberini Così intanto Vediamo anche La stagione di semi La stagione di raccolta E tutto quel che ne concerne Così visti una volta Poi cerchiamo di evitarli Per un po' di tempo Raga nel frattempo Che il collega Si destregge Ad arrivare là Al punto Io Mi andrei a fare una roba Mi andrei a Sempre che mi ricordo Dove si trovano Eccoli qui Mi andrei qua Sul lato del 42 A posizionare Un paio Di alberelli Così abbiamo A mele ovviamente Così abbiamo Un reddito ancora Un po' più sostanzioso Che comunque Sicuramente male Non ci fa Ne mettiamo Boh non lo so Quanti ne metto Adesso Provo Faccio un po' di prove Vi faccio vedere Quando abbiamo Quando ho finito Allora Ne è uscita una bella striscia Raga È uscito veramente Un bel frutteto 3 6 9 12 12 alberi 12 Più i nostri 1 2 3 Altri 6 alberi Qui Beh insomma Ne sono usciti 18 alberi Abbiamo in totale Quindi abbiamo Un bel frutteto Tra qui e là Boh Dovremmo riuscire A guadagnare Veramente un bel po' Intorno ai 20.000 euro Ogni fine giornata Bene 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 Tanto qua Non danno fastidio Anzi Sono anche molto belli Da vedere Quindi direi che abbiamo fatto Un bel colpaccio Anche stavolta Bene A questo punto Il collega ha venduto Per 26.000 euro Quindi direi che Ci siamo Ah qua però Devo venire a togliere Un attimino Probabilmente Le Il fogliame secco Aspettate Perché se no Non mi parte poi La fase di crescita Che va bene Potrei farla anche in marzo Farla partire Però Meglio probabilmente Se togliamo Il tutto ora Così almeno Siano tranquilli Ah già a proposito Altro che 18 piante Ne abbiamo di più Raga Orca miseria Sempre che non me ne vado a sbattere Perché abbiamo anche Una, due, tre Quattro, cinque, sei Altre sei piante Qua dal vigneto Mamma mia Non mi ricordavo Che avessi potuto Ste piante Bene 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 Altro che allora 20.000 euro Quasi 30.000 euro Ci facciamo Va bene raga Mi sono defogliato Veramente alla velocità Della luce Questo campo Così almeno Siamo prontissimi Ad andare In primavera Bom Direi che Dobbiamo andare A marzo Siamo al Secondo giorno di gennaio Direi che possiamo Correre tranquillamente Verso il primo marzo Ok raga Primo Giorno di marzo Io spero vivamente Che questa Neve Sparisca Alla velocità Della luce Così come è arrivata Un po' come Sull'anno mens Ok Bene Si doveva solo Sincronizzare per bene Ok 9.38 del mattino Del primo marzo Primo giorno di marzo Qua è ancora Presumibilmente In fase di crescita Bisogna darci una botta Di fertilizzata Collega Guardi Lei che è su Landini Si prenda questo bel Mercury Qua c'è il fertilizzante E mi fertilizzi per piacere L'uliveto Il vigneto Scusate Io nel frattempo Siamo arrivati A 589.000 euro Devo occuparmi Di tutta la trafila Di questi campi Ovvero Iniziare Le varie arature Va bene Volevo vedere Solo se Nelle offerte Di Quanta bella roba Innanzitutto Abbiamo Il Cassoncino Che finalmente Ci serviva Per la raccolta Dell'uva Che Assolutamente Lo prendo E' il più piccolino Ma non me ne frega niente Perché tanto il landino Non è che può contenere Così tanto Quindi me lo prendo Perché c'ho la targa Stain 84 Va bene E poi Mi vado a prendere Ancora un'altra cosa Che ho visto Molto carina Ma Per la fertilizzazione Uno si uno no Oppure Devo passarli tutti Tutti devi passarli Poi Altra cosa Abbiamo A parte Un bel voltafieno Che probabilmente Noi non abbiamo Sul campo 2 Devo andare a darci Un'occhiata Scelti un secondo Dallandini Per piacere Si sono già sceso Ok Ok allora Vediamo Vediamo un po' Il voltafieno No Non lo abbiamo Potrebbe tornarci utile Quindi Lo vado a Prendermelo Tanto costa solo 7000 euro E Fortunatamente E' in offerta Ok Recuperiamo un po' Di oggetti In saldo Raga Perché ovviamente Quando ci sono i saldi Bisogna acquistare Perché se no Ci se ne pente Poi Poi guardate Che meraviglia Abbiamo Questa splendida Pottinger Da ben 6 metri Che è una Seminatrice Servono 210 cavalli O addirittura Se proprio vogliamo Strafare Ma credo che 17 metri Di seminatrice Sia A parte che dovrebbe essere Forse una piantatrice Questa qua Esatto E' una piantatrice La piantatrice Noi ce l'abbiamo Già bella La Wernerland Quindi Utilizzare una di quelle Piantatrici così grosse Mi sembrerebbe Davvero troppo Questa ce l'abbiamo Funziona bene L'avevamo presa Se non mi sbaglio Addirittura anche Usata Quindi direi che Non c'è nessun problema Restituiamo A questo punto Vendiamo Questa piccola Seminatrice Che finalmente Molti di voi Mi avete detto Simo Vendi sta seminatrice Vendi sta seminatrice Vendiamo la seminatrice Ragazzi Vendiamo C'è la 16.000 euro E ci recuperiamo Questa qua Da 47.000 Che è un po' costosa Ma comprata questa Ragazzi Non ne vado a comprare Di sicuro Mai più altre Durerà per tutta la serie Anche perché 6 metri di seminatrice Voglio dire Ci sta Credo che I nostri Acquistini Ce li siamo Ben più che fatti Poi sistemerò il tutto Io ho finito Comunque Bene ok Collega Allora Avviati verso Questo campo qua Senza Landini Recuperati L'altro Landini Quello grosso Che ti noleggio Un arieggiatore Mi viene ad aiutare Ad arieggiare i campi Bom Qua vicino al campo 41 Dove sono io Hai il tuo arieggiatore Qua sblocchiamo La velocità Ragazzi E iniziamo A questo punto L'arieggiatura Di tutti i campi Non so se Riusciremo A Ehm Come dire A seminare Io ci proverei Però Non ne sono sicuro Purtroppo Allora raga Mettiamo un pezzo Di operaio Perché veramente Se no Ci Veramente Ci facciamo vecchi A stare dietro A sto operaio Allora I nuovi campi 42 39 Questo ha bisogno Della calce Perché come vedete È già arato E invece Questo Non ha bisogno Né di calce Né di aratura Fortunatamente È già fatto tutto Quindi Siamo anche Tutto sommato Con questi campi Abbastanza fortunati I sassi I sassi Gran rottura Di sassi Veramente Perché Abbiamo il raccogli sassi Piccoletto E sì Che con i soldi Che abbiamo Potrei comprare Il raccogli sassi Grosso Bami scoccia Spendere 50.000 euro Per quel raccogli sassi Lì sinceramente Va bene Tanto con il piccolo Fendino Anche se non è molto grosso Ma tanto comunque Penso che adesso Poi lo andremo anche a Fare l'upgrade Del motore Perché Così adesso Veramente inizia Ad essere troppo piccolo Ah da quello che posso vedere Però me lo coltiva Anche in un certo senso Eh sì Il campo Ah sì 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 Esatto perché Adesso mi segna che è arato Invece ora qua La prima riga Mi segna che è coltivato Allora raga Nel frattempo Che gli altri operai Si destreggiano Ovviamente Assieme al collega Io mi sono andato Io mi sono andato A recuperare Il piccolo landini Perché dobbiamo andare Per forza A sfamare In primis Le galline Anzi le galline Direi che Probabilmente È meglio sfamarle Con un cassone Non so se a questo punto Ho un campo Tenermelo a orzo E farmi l'orzo Per i polli Perché non ho più niente Veramente Eh mi conviene Raga Perché mi sono rimasti 740 litri Per il momento Sono soddisfatti Penso per 10 giorni Dovrebbero essere A posto Direi che Probabilmente Il campo Sapete cosa vi dico Per questa stagione Il campo 40 Lo Coltiviamo ancora Cioè lo seminiamo A frumento E Mi tengo ancora Momentaneamente Solo il campo 2 A erba Così almeno Siamo tranquilli E E poi niente Quando sarà il momento Magari Prossima stagione Magari lo Convertiamo A campo A campo ad erba Direi che vado Un attimino con il landini Raga Tanto abbiamo tutta L'attrezzatura Necessaria Lassù Al campo 2 Mi vado un attimino A fare un po' Di raccolta Di erba Così la portiamo Alle pecore Perché veramente Ne hanno pochissima E con la scusa Mi porto su Anche il carrello Allora Ragazzi Siamo arrivati E Chissà se il coraggio Ci ripagherà Da questa enorme Fatica Che andremo a fare Testiamo comunque Le doti Del piccolino E Ma Sai che ti stupirà Con la falciatrice Davanti Camina Come un treno Guardalo lì Come cammina Guardalo lì Con questa visione Possiamo tranquillamente Fermarci qui Vi ricordo come sempre Che giù in descrizione Potete trovare tutti i miei link utili Compreso anche un link Che vi permette di comprare questo Ma anche tanti altri giochi scontati E ovviamente Il link del buon collega Che non può Mai Mancare Detto ciò Io Concludo qua Le varie lavorazioni Mi porterò avanti Tutte le varie arieggiature Le varie lavorazioni Presemina Così il prossimo episodio Possiamo ufficialmente Partire con Le Semine di patate E barbabietole Detto ciò Ringrazio il collega Per l'aiuto Ringrazio voi Per la visione Vi mando un grosso saluto Vi ricordo di lasciare Tanti bei like Per questo nuovo episodio Della mappa Out Baileron Un saluto Un saluto al collega E al prossimo video Ciao a tutti Ciao ciao